E' ma che sigla! Buonasera, ben ritrovati. Allora è la prima giornata qui di Intelligo TV, vi stiamo tenendo compagnia dalle 8 di questa mattina e mi raccomando su questo canale stateci più ore possibile perché poi vi diremo un sacco di cose. Potete anche partecipare in diretta con il numero che vedete sotto di me. La resa dei conti, fatemi vedere a pieno schermo il nome di questo programma che mi sembra una roba esagerata, però ci sta. Alla fine di conti si parla sempre, allora saluto gli ospiti. Alla mia destra, Renato Pomari della FIOM CGL, buonasera. Buonasera. E' pronto alla resa dei conti. Certo, certo. Guardi com'è nero stasera, di solito viene con tutti questi colori della FIOM. Cosa ha fatto di buono oggi? Mi dica una buona azione che ha fatto oggi, in politica, non che ha fatto attraversare la strada un vecchietto. No, niente di particolare oggi. Cioè non ha fatto niente? Ho fatto i doveri e il cittadino, diciamo, come tutti. Ha pagato le tasse? Ha pagato le tasse, la dichiarazione dei redditi. Sì, tutto oggi. Vabbè, dai, non ha fatto niente. Non era pronto a questa domanda. Non ero pronto. È pronto però a questa domanda Max Romeo, capogruppo della Lega Nord in Regione Lombardia. Ciao Max, benvenuto. Buonasera a tutti. Allora, che hai fatto di buono oggi? Ma oggi, insomma, l'attività in Regione è iniziata, è ricominciata subito dopo la, diciamo così, lunedì, Pasquetta. E oggi ci siamo concentrati molto su un progetto di legge che riguarda il trasporto pubblico locale, la sicurezza del trasporto pubblico locale. E stiamo, mancavano proprio due passaggi prima di presentare la legge. Importante che mettano, ci sia l'obbligo di mettere le telecamere sui mezzi pubblici e sui treni per garantire maggioranza. Addirittura, telecamere sui mezzi pubblici? Sì, anche sul trasporto pubblico, sì, quindi autobus, ma anche treni, stiamo lavorando in questa direzione. Siete preoccupati per Expo? Cosa potrà succedere a Expo? Ma un po' di preoccupazione, insomma, sul padiglione Lombardia ci hanno detto comunque che riusciranno probabilmente a garantire entro i primi di maggio, comunque quindi rispettando i tempi. No, alla fine siamo abbastanza ottimisti. No, no, ma dicevo per quanto riguarda la sicurezza, tu facevi un discorso. Ah, sulla sicurezza, beh, il fatto che arrivino i soldati, sono più di 1200 soldati, c'è comunque il punto della situazione che il Ministero dell'Interno verrà a fare giovedì, questo mattina, presso la Prefettura di Milano. Mi sembra che, insomma, ci siano tutte le condizioni perché il sito possa essere mantenuto in sicurezza. Tra l'altro abbiamo anche chiesto, appunto, magari che le forze dell'ordine, chi lavora nelle forze dell'ordine abbia magari uno sconto maggiore, in modo tale che entrando poi nel sito di Expo, anche solo per visitare, all'occorrenza possa dare maggiormente una mano. Ma è vero che arrivano tutti questi turisti, questi biglietti venduti o una bufala? Ma qualcuno dice che sono reali, qualcuno dice che i numeri non sono proprio quelli che vengono dati, però confidiamo davvero che ci sia un buon numero di visitatori, magari non sono i 20 milioni previsti, saranno un pochettino di meno, fossero anche solo 5-6 milioni di turisti, comunque porterebbero una boccata d'ossigeno per la nostra economia. Prepo Mari, lei faccia il bravo perché io so che ci sono un sacco di manifestazioni, di quelli che non sono d'accordo con Expo, dei cosiddetti antagonisti, non è che mi vale anche lei a manifestare? Ma guardi, io penso che manifestare sia il sale della democrazia. Ho capito, ma se rompete i coglioni quando i riflettori del mondo sono puntati qui, ci fate fare una figura di merda. Ma non è vero, cioè dipende da come si manifesta. Io sul fatto della sicurezza penso che si stia... No, io voglio sapere se lei manifesterà contro Expo. Certamente, certamente. Ma cosa va a manifestare a fare? Ma stia a casa. Ma guardi, prima c'è da manifestare perché per pessimi accordi sindacali, anche della CGL, il lavoro volontario gratuito. Questa ha ragione, perché avevano promesso un sacco di posti di lavoro, i posti di lavoro non sono arrivati, però, e se sono arrivati, sono arrivate quelle cagatine lì a tempo. Però, mi scusi, ma cosa andate a manifestare? Ma mi sembra che poi Expo si stia rivelando proprio un buco nell'acqua, perché... Ma non porti sfiga? No, ma, come dire, sappiamo che la gran parte dei padiglioni non saranno pronti. No, non è vero questo, dai. Due o tre padiglioni non saranno pronti. Anche il padiglione Italia non si sa come sarà terminato. Poi, con tutto quello che c'è stato in precedenza, sul fatto appunto delle indagini, fatto delle inchieste... Ma cosa va a manifestare? Però, ci sono le telecamere di tutto il mondo, puntate qui e voi andate a manifestare contro Expo. Ma state a casa. Ma le ho detto, perché questo spreco di denaro? Ho capito, ma perché questo spreco di tempo e questa figuraccia che ci fate fare andando a manifestare? La figuraccia sta facendo chi l'ha organizzata, vedremo come andrà, ma mi pare che... Sì, ma se con le telecamere di tutto il mondo accese, voi vi buttate là. Stanno arrivando proprio lì in zona Cesarini, quando era da anni che si doveva fare, quindi la figuraccia mi pare che la sta facendo. Cosa pensi di questi che vanno a manifestare? Secondo me è assurdo, anche perché al di là di tutti gli errori che possono essere stati commessi, delle inchieste, di quant'altro, Expo può rappresentare un'opportunità anche per il futuro di questo paese, nel senso che noi siamo... Expo porta turismo e si parla di alimentazione. Noi nel campo dell'alimentazione non siamo secondi a nessuno e nel campo del turismo abbiamo forse i siti migliori al mondo. Se davvero riuscissimo a cogliere questa opportunità, incrementando, investendo nel turismo e nel settore, per esempio, agroalimentare, forse riusciremo a creare molti posti di lavoro, non è un caso che il settore agroalimentare sia tra quelli che ultimamente ha preso più ossigeno. Scusate, vi fermo, Renzi vi sta sulle balle tutti e due, vero? Sì, direi proprio di sì. Motivo principale? Motivo perché ha, come dire, sfruttato il lavoro, ha fatto addirittura peggio, è andato oltre quello che aveva già iniziato a fare Berlusconi, poi il governo Monti, il governo Letta. Invece a lei un motivo? Un accentratore di poteri, io sono federalista e sono per il decentramento e per l'autonomia da sempre, essendo leghista, quindi questo invece... Allora, domani esce sui giornali questa notizia qua, esce sui giornali che Renzi dice niente tagli né aumento delle tasse, c'è il documento di economia e finanza, venerdì sarà dato l'ok, Padoan, il ministro dell'economia, dice nel 2018 addio al debito pubblico, niente tagli né aumento delle tasse, le tasse stanno là ferme, i soldi però li recuperano, tu che sei federalista, dai comuni, cioè cosa succede? Che Renzi non aumenta le tasse nazionali però toglie i soldi al tuo comune e poi il tuo comune cosa fa? Prende e ti mette più tasse a te, è così no? E certo, la fregatura è questa, il sistema è sempre stato quello, lui si fa bello dicendo che riduce le tasse, poi con una mano ti dà, con l'altra ti toglie perché, faccio solo l'esempio dell'ultima manovra finanziaria, solo la Lombardia, sono stati tagliati tra regione, comuni e province circa un miliardo e duecento milioni di euro, quindi è chiaro che poi alla fine gli enti locali comuni aumentano le tasse, quindi i servizi essenziali, tante altre, guardate vi dico solo del mio comune Monza, hanno addirittura messo, visto che sei di Monza anche tu Bomari, hanno messo addirittura, hanno aumentato anche la tassa per fare il gazebo il sabato o la domenica, per dire per i partiti politici costanti. E certo, perché volevano togliervi dalle scatole. No, no, ma forse per i politici sarebbe un conto, ma l'hanno fatto anche per tante associazioni no profit che lo fanno magari tante iniziative, solamente anche per promuovere. Allora, ne tagli, ne aumento delle tasse, ma lo stiamo prendendo dal Corriere, ma sui comuni è duello con Fassino, cioè Fassino che è sindaco di sinistra come Renzi, è arrabbiato, perché dice qua i comuni ci distanguate. No, ma i comuni hanno ragione, perché il governo sta tagliando appunto a livello locale e poi anche con la spending review e quindi i comuni e i cittadini hanno meno soldi per i servizi e di conseguenza poi molti comuni, magari se hanno anche dei soldi, non possono addirittura spenderli. Però vende questa come una manovra che non toglie soldi Renzi, però di fatto i soldi bisogna prenderli per mantenere tutta quella macchina. Non le viene di essere un po' federalista anche a lei? Ma guardi, io penso che bisognerebbe incidere più sulle grandi spese che sono proprio anche a livello nazionale, spese veramente inutili oppure spese come l'Expo che sono dei costi stratosferici e poi le solite spese, le spese militari. Datemi la stampa, vi fidate con due facce così che si guardano, guarda come è invecchiato Renzi, questo Renzi che si guarda con Padoan, crea un'immagine nuova per la sagra del peperone e un'altra roba, poi sembra un altro tipo di sagra, chi la spara più grossa? Uno che ci sta dicendo che non aumenterà le tasse. No, invece stanno aumentando perché i servizi per i cittadini stanno aumentando. I comuni poi dopo ne fanno le spese, non si va a incidere quello che è sullo spreco, secondo noi l'Expo è uno spreco, poi le solite cose, le grandi opere, le spese militari che dovrebbero essere tagliate. Ecco, intanto si parla ancora di questo Sgarbi che deve candidarsi a sindaco di Milano, cioè deve sempre rompere le scatole a qualcuno. La decisione finale la prenderà solo dopo Expo, la solita passeggiata di Sgarbi con tutte le cose migliori che abbiamo da fare. Due parole su questo, visto che ne parlano i giornali, questo è affari italiani. Sgarbi è notoriamente un personaggio molto vulcanico, quindi è chiaro che ogni giorno tira fuori un'idea. Noi l'abbiamo detto, cioè nel senso noi come centrodestra puntiamo molto intanto a capire quale può essere un programma per Milano e quindi dalla sicurezza al pagare meno tasse penso che siano i due punti principali e dall'altra parte che siano poi le primarie, che siano i cittadini che tutto sommato devono cominciare a piacere anche noi del centrodestra a decidere chi poi potrà essere lo sfidante del candidato di centrosinistra. Voi volete Salvini a Milano? Insomma Salvini è una... tutto dipenderà molto da quello che vuole fare lui, perché questo è chiaro. Certo con una candidatura come Salvini avremo ottime chance di poter vincere la partita, però è una scelta che può prendere solo lui. Romari? Salvini proprio non vi piace. Cos'è che ce l'ha? Ce l'avete con la Lega voi? Ma non è che ce l'abbiamo con la Lega. Le scelte, le politiche che la Lega fa su particolari temi come su quello dell'immigrazione ci vedono in totale opposizione. Cosa c'è che non va sull'immigrazione per esempio? Ma sull'immigrazione è scaricare su chi è più debole, è più fragile, subisce di più tutti i mali di questo mondo. Cioè sta parlando dei cittadini italiani? No, sto parlando... ci sono anche i cittadini italiani che sono involontati. Meno male. È vero questo, perché è un problema proprio come dire di classe, ma soprattutto gli immigrati che sono in una condizione drammatica, non vedo perché devono subirsi questi attacchi, non ci sarebbe bisogno. Soprattutto c'è un clima, molto pesante, di odio, di razzismo. Romeo, odio, razzismo. Noi vogliamo semplicemente che il governo rispetti una legge che è in vigore, che è la legge Bossi-Fini, che dice che chi è un profugo davvero, perché viene verificato come tale, è giusto che entri e abbia giustamente il sostegno, per amor del cielo, che il diritto internazionale impone agli stati dell'Europa e anche ad altri. Chi invece non è profugo, ma che entra e fa il furbetto, torni a casa sua. Vogliamo semplicemente che venga applicata la legge e su 120.000 questi sono i dati del Viminale, persone che sono sbarcate tra il 31 agosto 2013 e il primo luglio 2014, solo 4.000 hanno ottenuto lo status di profugo. Gli altri sono tutti furbi e furbetti che si sono intrufolati dentro. Applichiamo la legge. Da dove arriva? Arrivano dall'Austria? Non arrivano da paesi che sono in guerra, altrimenti sarebbero stati riconosciuti come profughi. E' gente che non è vero che arriva da paesi che sono in guerra e che si nasconde dietro questa storia che ormai voi li chiamate tutti profughi per dire siamo profughi anche noi. Restano clandestini e poi abbiamo visto con delle immagini purtroppo scandalose che addirittura lo Stato fa finta anche di non vederli. Intanto in Sicilia stanno risparmiando, qua il governatore Crocetta è contento, è stato chiuso il bilancio, sono al giornale di Sicilia, mancano 300 milioni, adesso i conti quadrano. Sì perché prima avevano 800 milioni di spese in più e adesso 800 milioni di spese tagliate rispetto al 2014 gli mancano ancora 300 milioni. Diamogli dei soldi a questi poveri della Sicilia. Insomma dai sono sempre avanti così, credo che i quadri, i conti hanno sempre quadrato. Quanti milioni mancano? Hanno sempre quadrato perché ha sempre pagato lo Stato, ha sempre pagato Pantalone. Pomari 300 milioni da dare alla Sicilia, dai avanti. Ma io credo anche qua che più che dare assistenza e dare soldi bisogna dare sviluppo. Sì però se non gli dà soldi i siciliani vengono su col forcone. Vabbè hanno fatto il buco, potrebbero pagarsene i cittadini siciliani, aumentando le tasse, il governatore sarà obbligato a aumentare le tasse perché hanno i politici locali, quindi i siciliani hanno fatto il buco di bilancio. Se lo paghino loro non ce lo facciano pagare a noi. Mancano 300 milioni, diamo questi 300 milioni ai siciliani, che ne pensa? Io penso una cosa, che bisogna cambiare linea, nel senso che bisogna favorire le attività che servono allo sviluppo del Paese. Se si favorisce l'industria, se si favorisce il lavoro, non c'è bisogno di assistenzialismo. Purtroppo in tante regioni poi i problemi neanche sono ben altri perché non si investe per altri motivi, non solo nel meridione, ma anche da noi che sono legati alla corruzione, che sono legati alla criminalità organizzata. Questo è il grosso problema in questo Paese. O intanto Salvini trova anche tempo di darsi baci con la Isoardi, stiamo nel genere Pettegolezzi, ma chi li smaschera che si baciano? Fuga nella notte con la Isoardi, Matteo Salvini ed Elisa Isoardi paparazzati mentre si scambiano un bacio. La conduttrice e il leader leghista formano una coppia ormai da diverso tempo. Immortalati a Roma all'uscita dalla cena a casa di amici. Allora, anche Salvini innamorato, non è che si distrae. Queste sono questioni private. Sinceramente a me dà un po' fastidio che si mettano sulle prime pagine del giornale. La vita privata si dice privata proprio per questo motivo. Ognuno, insomma, dietro le mura domestiche, in qualsiasi posto, fa quello che ritiene essere il più giusto e nessuno deve star lì ogni due secondi a scattare fotografia, a creare gossip. Adesso mi sembra che vada un po' di moda ultimamente nei confronti dei politici. Ma lasciateli stare. La vita privata è la vita privata. Poi i poverini si baciano in strada col giaccone, neanche un attimo di intimità. E là subito il fotografo che li piglia. Insomma, un attimo di intimità. Allora, cosa ne pensa di questa legge? No, non del bacio. È chiaro che lei non è esperto di baci. Come fa a dirlo? Beh, insomma, intuisco. Intuisce male. Hai un esperto di baci. Allora mi commenti il bacio. Io lo voglio chiedere. No, è che penso che assolutamente non interessa agli italiani e poi invade la vita privata. Però vende copie, eh. Chi venderà un sacco di copie con questo bacio? Ma guardi... Credo che tra chi fa questi finti scoop e chi compra questi giornali la qualità sia veramente molto bassa. Però guardi che alla gente interessa un bacio, eh. Ridiamolo sto bacio. Alla gente interessa un bacio. Non era l'esperto di baci, lei. Ma non penso che interessino queste cose, cioè francamente. Mi dica una roba che interessa ai cittadini. Come mai la Lega ha tanto successo? Ho visto che sondaggi... Ha in successo perché... No, è vero, ha successo. Quello interessa. Ma è successo perché, come dire, parla... In un certo senso i bisogni reali della gente, anche in maniera molto facile. Però, ripeto, scaricando le colpe anche in maniera molto facile. Cioè, non è colpa degli immigrati o dei ceti sociali più poveri. È colpa di una situazione economica che è ormai ferma. Di una crisi che è ormai strutturale. Di una mancata ridistribuzione della ricchezza. È colpa di chi non ha provveduto in questi anni in questo paese a investire. Romeo? Ma, adesso la Lega ci ha sicuramente successo perché di fatto capisce quali sono i reali bisogni della gente. Intanto perché noi andiamo nei mercati, abbiamo il gazebo, andiamo a trovare le aziende, parliamo con gli imprenditori, con gli operai, con i commercianti. E quindi contanto capiamo quali sono i reali problemi. Poi, dall'altra parte, non dimentichiamoci che la Lega governa due regioni importanti, come Veneto e Lombardia. E dove governa? Mi sembra che il sostegno alle imprese ci sia stato che non aumentino le tasse, a differenza di altre regioni rosse, come per esempio Liguria, Piemonte, Emilia e Toscana, dove i cittadini a fine anno si troveranno a pagare circa 1000 euro in più di tasse. Piuttosto che il sostegno alle politiche della famiglia, agli anziani, alle persone bisognose, ai minori. Cioè la Lega dove governa, Regione Lombardia e Veneto, risponde concretamente a determinati bisogni della gente. E soprattutto, per esempio, sul tema dell'immigrazione, Maroni è stato primo a dire, come Regione Lombardia, noi non tiriamo fuori un soldo per questi finti profughi, ma se abbiamo due euro li diamo ai cittadini. Però Maroni può dire quel che vuole, i soldi li state tirando fuori, perché i comuni sono costretti, comunque adesso sono sempre soldi dei cittadini, i comuni sono costretti poi ad accogliere questi profughi. Beh non sono costretti, in realtà le prefetture li invitano a, la maggior parte si offrono volontari, perché ci sono per esempio dei comuni amministrati per esempio dalla Lega, devo fare un esempio, che hanno detto no, noi non intendiamo accogliere nessuno e si sono rifiutati di eseguire quello che era un input che arrivava dal prefetto. E i soldi che vengono messi a disposizione per questi profughi sono i soldi del Ministero dell'Interno, dello Stato, del Governo Renzi, non certo della Regione Lombardia, che ripeto ha deciso di non dare neanche un euro a queste persone, ma dedicare tutte le risorse nei confronti della nostra gente che ha pari dignità, non diciamo di essere sopra gli altri, ma che siamo sullo stesso livello. Ma su questo io direi che… O è rimasto al bacio lei? No, 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 quando la Lega parla di governare bene alcune regioni, io penso che i fatti dimostrino proprio il contrario, innanzitutto nel Veneto mi pare che avete una profonda spaccatura al vostro interno. In Lombardia staremo a vedere i risultati che otterrete con l'Expo e siete estremamente in affanno, quindi andrei molto cauto sul fatto che state governando bene. Poi non mi pare che le aziende o il lavoro in queste due grandi regioni sia in crescita, non mi pare che col governo della Lega sia, come dire, diminuito il problema e la disoccupazione, ci sia sviluppo, mi sembra che tutto si stia, come dire, in cancretto e aggrovigliato. Nessuno ha la bacchetta magica, non è che si può chiedere al governatore della Lombardia, a Maroni, piuttosto che a Chiazzaia in Veneto, di riuscire improvvisamente a creare occupazione, si sa che per creare l'occupazione ci vogliono delle misure e degli investimenti a livello nazionale. Prima parlavo di turismo, piuttosto che agroalimentare e quant'altro. Certo che però non è venuto meno il nostro sostegno alle imprese, noi abbiamo tirato fuori circa 3,5 miliardi di euro per sostenere le imprese, con le varie misure, credito adesso, credito in cassa, investimenti, innovazione e ricerca, abbiamo dato con i bandi un sostegno per quello che è possibile darci. Certo il bilancio della regione Lombardia è un bilancio molto limitato, su 23 miliardi, 17 se ne vanno tutti in sanità e quindi il rimanente serve un po' per tutto. Chiaro che nessuno ha la bacchetta magica, però per esempio nel piccolo, con lo strumento della dotta e lavoro, abbiamo fatto sì che un buon 20% di persone che si è iscritte con la dotta e lavoro, in qualche maniera, chi per tre mesi, chi per sei mesi, chi anche per poco, si sia comunque avvicinato al mondo del lavoro e abbia fatto anche con un tempo determinato, comunque non sia rimasto a casa. Quindi nel nostro piccolo qualcosa stiamo facendo, chiaro la bacchetta magica non ce l'abbiamo. Per fare qualcosa di veramente serio ci vorrebbe una Lombardia autonoma, indipendente, sovrana, capace davvero di decidere su determinate questioni, così come in Veneto, insomma il nord potrebbe davvero sì lì prendere il volo e risolevasse nella crisi economica. Ma quanti soldi spenderete per questo referendum? Cosa succede? Che la gente deve andare a votare che cosa? Ma la nostra richiesta è quella di ottenere più autonomia e più risorse sul nostro territorio. Del resto un recente sondaggio fatto da SVG ed Eupolis ha messo in evidenza che il 58% della popolazione vorrebbe la Lombardia come regione a stato speciale, quindi che trattiene più risorse sul territorio. Addirittura questa percentuale diventa il 66% quando si parla solo e esclusivamente della questione economica. Il referendum non costerà nulla perché Maroni lo vuole abbinare alle prossime elezioni amministrative, quindi non queste, quelle dell'anno prossimo, in modo tale da ottimizzare assolutamente i costi perché già ci sono le elezioni amministrative in tanti comuni quindi si tratterebbe solo di spendere i soldi per stampare le schede, quello che vogliamo è far sì che smetta questo continuo flusso di denaro che non è servito a sviluppare il sud, prima parlavamo della Sicilia. Guardate che la Lombardia ogni anno versa allo Stato 53 miliardi di euro in più rispetto ai servizi che lo Stato gli garantisce e gli torna indietro, comprese scuole, giustizia e quant'altro. E se fossero serviti, questo è la gestione di denaro, ad aiutare le regioni povere ti dico va bene, almeno qualcosa servivano, ma così visto come stanno certe regioni del sud, lì c'è qualcuno che ha il centro, sti soldi se li mani. Omari? Ma la logica è sempre quella e poi mi stupisce anche di un fatto, nel senso che da un po' di tempo loro parlano e per fortuna non più di separazione, ma fanno un discorso riguardo anche alle regioni povere verso il meridione. e poi dall'altro, come dicono, le risorse devono rimanere da noi, devono decidersi o come devono essere destinate queste risorse. Il problema è uno Stato centrale che non funziona, ma deve essere un Stato centrale che funziona. Non hanno delle proposte su questo. Ma anche voi sindacalisti non siete un mezzo cancro anche voi sindacalisti? Beh, cancro è una parola un po' grossa, scusi. Anche mezzo però messo vicino ne diminuisce l'efficacia. Non ha funzionato, ok. Come lo scemo, il mezzo scemo, il mezzo scemo non è scemo. Ok, allora, poi il sindacato appunto non fa le leggi, il sindacato può fare delle proposte, può fare delle iniziative, ha mancato molto sulle proposte, ha mancato molto sulle iniziative, però ci sono sempre state delle leggi devastanti, ripeto, rispetto all'economia, rispetto al lavoro e dall'altro sentiamo sempre dire, le regioni che hanno di più devono tenere di più. Oppure si dice, lotta agli sprechi, poi dopo però sugli sprechi non si fa nulla. Io ripeto, l'Expo e tante altre cose saranno un grandissimo spreco. Ci vedremo alla fine. Mi scusi, però, anziché dare 53 miliardi di euro a Roma, perché non facciamo così? Ne teniamo 20 in Lombardia e gli altri 33 li diamo direttamente alle regioni del sud. Io sono convinto che così le cose andrebbero decisamente meglio. L'importante è non farli passare per Roma. Magari arrivassero alle regioni che sono più povere, ma finiscono lì. Vengono usati per tutte quelle spese, come per esempio i ministeri, che come abbiamo visto di recente, nonostante i tagli che hanno subito le regioni e le province comuni, la spesa dei ministeri continua a aumentare. Allora, servono probabilmente per mantenere il personale di Alitalia, che sappiamo che è per il 90% di tutta gente di Roma, che ha degli accordi sindacali di cui voi siete, tra l'altro, anche responsabili, accordi sindacali incredibili, con bonus di qualsiasi tipo. E lì sarebbe altro che pentolone da scoperchiare. Noi però abbiamo anche bisogno, come dire, di una sorta di Stato che funzioni. Non si può avere diverse velocità o diversi livelli di tenore di vita. Questo è il fatto. E lei cosa vorrebbe fare? Spropriare le fabbriche padroni? Non so. Qual è il suo programma elettorale? Perché lei è bravo a pontificare. Sembra un po' anche un mezzo prete così. Allora, io credo che bisogna innanzitutto, come dire, stabilire quali sono le priorità da spesa. Cioè, qual è la sua ricerca? Scusi, a parte criticare le robe che fanno gli altri. Su Expo ha un po' ragione, ma le va bene, nel senso che qualsiasi evento internazionale, ospiti l'Italia, c'è mangeria, c'è disorganizzazione e tutto quanto. Certo, da Milano magari uno non se l'aspettava, però, insomma, lei è bravo a criticare. Ma che cosa è bravo a costruire? Quali sono le vostre idee per alzare il reddito? Perché lavorare a slogan è un po' così, eh? Allora, le nostre idee per alzare il reddito sono innanzitutto che... Portare via le proprietà ai padroni? No, però bisogna... Requisire le fabbriche? No, però bisogna... Fare la spesa per l'oretto, come cavolo si chiama, che è spaccata su tutto. No, bisogna innanzitutto non permettere alle aziende di fare tutto quello che hanno voluto fare. Cioè? E' potuto fare. Cioè, molte aziende, anche multinazionali, sono venute in questo territorio, hanno fatto dei grandi utili, se ne sono andate via. Questo è giusto, sì. Ecco, bisogna, come dire, incentivare veramente chi assume, ma chi assume per un lavoro e a tempo indeterminato e chi assume per fare della ricerca e dello sviluppo. Questo bisogna... E i vecchi muoiono di fame nel frattempo. E i vecchi bisogna dargli appunto pensioni adeguate. Ma questo non mi ha spiegato come. Allora glielo dico subito. Assurde sono le spese militari, assurde sono le grandi esenzioni fiscali che ci sono in questo paese, anche alla Chiesa Cattolica. Assurde sono le grandi opere, dalla TAV al MOSE, a tutto il resto, che non servono a niente. Queste grandi voci, grandi voci, sono, adesso non so, la gran parte della spesa. Dove si va con un ragionamento di questo tipo? Ma certamente se anche le grandi opere non servono a nulla, alla fine in genere le grandi opere servono innanzitutto per creare collegamenti che sono fondamentali per mantenerci in una logica di contatto di mercato con gli altri paesi. Ma lo sai benissimo. Questo servono anche per creare posti di lavoro, perché le grandi opere hanno creato posti di lavoro. Però io penso che l'obiettivo principale per cercare di ripristinare un po' di equità e per far sì che molte imprese, perché non sono tutte multinazionali cattive, che sono tutti qua da approfittarsi, ma ce ne sono anche tanti invece che sono imprenditori che sono dovuti scappare via perché sennò qui rischiavano di chiudere, è di cambiare l'attuale sistema fiscale, che fa pagare meno tasse ai grandi e fa pagare più tasse ai piccoli. Il nostro è un paese della piccola e media impresa che l'ha sempre presa in quel posto. Allora, cambiamolo questo sistema, perché più sei grande, più sei multinazionale, vai in credito fiscale, in credito diva, sposti la sede legale da una parte, dall'altra, tutti gli asset societari, tutti sistemi e marchi ingegni per evitare di pagare le tasse. Invece il povero piccolo imprenditore, quello che c'ha la bottega, piuttosto che l'imprenditore che c'ha la piccola azienda in Brianza, per fare un esempio, quello invece viene tartassato e arriva a pagare fino a oltre, in alcuni casi, 60% di tasse. Bravo, ma per restare alla Brianza, tu vieni da una zona che una volta richiamava, tutti e due, anzi siete Brianzoli e Monzesi, venite da una zona che dava da mangiare a mezza Italia, che richiamava gente a lavorare da tutta Italia, dove c'era una ricchezza spaventosa, ricchezza che non c'è più, resiste, perché le aziende resistono, ma sempre a fatica. Quando torni a casa la sera, quando torni nella tua Brianza, che cosa dici a questi imprenditori che incontri, che ti fermano per strada, che sanno che tu sei un consigliere regionale, un capogruppo del principale partito di governo in Regione Lombardia, cosa gli racconti? Loro si aspettano molto, si aspettano un sostegno forte da parte della Regione, solo che oggi le Regioni non sono nelle condizioni di poter sostenere economicamente, con un bilancio di cui dicevo prima, su 23 miliardi, 17 sono solo sul comparto sanitario, quindi sono 5 miliardi di euro, non riesce la Regione a far fronte a tutto. E quindi cosa gli dici, che colpa di Renzi? No, sicuramente che lo Stato centrale purtroppo continua a vessarli, ed è lì dove la partita fondamentale si gioca. Un po' lì e un po' in Europa, perché anche l'Europa con le nuove regole che ha messo, soprattutto sul credito per esempio, con Basilea 2 e Basilea 3, anziché tenere conto della realtà locale delle singole aziende, cosa ha fatto? Ha fatto delle regole che valgono per tutti e questo naturalmente va a danneggiare proprio il nostro tessuto produttivo, facilitando invece quello della Germania e quant'altro. Purtroppo è una battaglia difficile, c'è un senso, te lo dico onestamente, un po' di impotenza da questo punto di vista. Cioè quando noi diciamo, teniamo qua le risorse sul territorio, perché solo tenendole qua, riusciremo davvero a fargli avere delle sovvenzioni tali, magari riducendo la pressione fiscale per quello che possiamo ridurla, perché è molto deciso da Roma, però venendo incontro a quelle che sono le loro esigenze. Forse su un aspetto possiamo davvero aiutarli, per quanto di nostra competenza, perché poi c'è anche sempre qui lo Stato di mezzo, sulla burocrazia e lì qualcosina abbiamo fatto, abbiamo messo in campo questi angeli della burocrazia per cercare in qualche maniera di alluttare, di felicitare, però la regione può fare di più. Fra un po' gli angeli, gli imprenditori li vedono da soli perché si suicidano. Eh, questo è il punto. Si suicidano gli imprenditori, anche in Brianza, gli angeli li vanno a vedere. Però, te lo chiedo Romeo, è vero che la Brianza è famosa per il suo ingegno o lo era per la sua attività, ma quanti anche piccoli imprenditori brianzoli sono disposti a rischiare magari sull'innovazione, sulla ricerca, sull'andare oltre il proprio prodotto? Cioè manca anche questo, ho capito? Mi sta dando dei deficienti, però oggi come oggi è difficile per un imprenditore che magari ha il timore, la preoccupazione di non arrivare magari a pagare i propri dipendenti, dire investi in ricerca, in tecnologia, perché investire vuol dire insomma tirar fuori dei soldi, mettersi, e per poter investire spesso e volentieri hai bisogno dietro di una banca o di un qualcuno che ti fa credito per l'investimento. Oggi purtroppo la maggior parte delle banche questo credito non lo fanno, oddio, lo fanno solo nei confronti di alcuni, invece nei confronti dei piccoli imprenditori non lo fanno, tant'è vero che la regione sta veramente pensando tramite la sua finanziaria fin lombarda di diventare una sorta un po' di banca regionale che possa un po' allargare le mosse del credito, essere lei, farsi lei garante di fronte alle altre banche ed essere lei direttamente prestaticce di denaro. Questa è un'operazione però che ci vuole un po' di tempo per arrivare a farla, ma ci stiamo lavorando. Volevo a questo ricollegarmi su un discorso che abbiamo fatto prima. No ma io voglio sapere, lei ci parla con gli imprenditori o la prendono a calci prima ancora di vederla? Ma noi ci parliamo, tentiamo di parlarci sempre. Perché molto avete, no, molto avete, ma mi fa parlare, molto avete fatto anche voi come sindacato nel rallentare certi processi, insomma io riconosco il valore del sindacato però un certo sindacato ne ha approfittato, magari per non lavorare, magari per avere delegati che scaldavano poltrone da una parte e dall'altra senza far niente. Non c'è un po' di autocritica da parte del sindacato? Sicuramente c'è autocritica, guardi, io penso che se c'è l'autocritica è quella che si è sempre cercato di fare degli accordi a ribasso e non come dice lei. Allora, il sindacato si confronta perché deve rappresentare i lavoratori, si confronta anche, si confronta sempre anche con gli imprenditori. Molte volte agli imprenditori proponiamo dei corsi di formazione perché sappiamo che i lavoratori, in molti casi, soprattutto quelli che hanno una certa età verso la pensione, non sono più adeguati per un certo tipo di lavoro, devono essere formati. C'è una difficoltà enorme in questo, come dire, una disponibilità a dei corsi di formazione. Volevo dire una cosa, riguardo anche alle banche, è uscito in questi giorni questo piccolo sondaggio. Renzi diceva che col job set i giovani o i lavoratori a contatto di due delle crescenti avrebbero avuto i prestiti in banca. Le banche hanno comunicato che non cambia nulla. Cioè praticamente se chiedi un mutuo, no, 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 se chiedi un mutuo con questi nuovi contratti precari, il mutuo te lo danno. Ma cosa ti rifilano addosso? Ti rifilano un'assicurazione che costa più, che fa aumentare i costi del mutuo. Esatto. È una roba che è incredibile, perché invece di pagare, che ne so, 700 euro per 100.000 euro ne paghi 1.100 per averti 100.000 euro su base a 15 anni, ad esempio. O ti chiedono le solite garanzie che ti chiedevano prima, se c'è qualcuno che ti può fare da copertura. Quindi da questo punto di vista il job act non porterà nessun vantaggio per il lavoro. Ecco, le banche non ti regalano niente. Allora, la Diaz fu tortura a Strasburgo, condanna l'Italia per il G8? No, per il G8 sì, ma è una sentenza della Corte Europea dei Diritti Umani sul blitz della polizia nella scuola Diaz. Insomma, un cittadino, Arnaldo, un pensionato veneto, ha presentato l'esposto. Come la vediamo sta notizia? Frega niente? No, direi che... è un piccolo passo di giustizia, nel senso che anche su questo, nel nostro paese, si è sempre pensato in maniera unilaterale. E ritorna sul fatto anche delle manifestazioni. Qui, lì al G8 di Genova, in alcuni casi, sono state massacrate delle persone assolutamente tranquille. E il fatto della Diaz è stato un fatto scandaloso. e ricordo che c'era il governo Berlusconi con la Lega al governo. Sarebbe ora di introdurre in questo paese anche il reato di tortura. Nessuno deve essere al di sopra dell'impunità. Romeo, come la vedi? Non puoi legare... No, non deve... Vorrebbe parlare. Intanto dico, già il fatto che esista una suprema corte europea alla quale si può appellare qualsiasi cittadino mi fa venire i brividi. Mi sembra un po' un tribunale d'esecuzione fatto da chi da un giudice che non conosce la realtà, non sa chi siamo, com'è venuto o quant'altro. Quindi già questo è l'idea dell'Europa che noi non vogliamo. L'Europa delle regioni, dei popoli, non certo l'Europa della Corte Suprema. Primo. In secondo luogo, sulla questione dei fatti del G8, se ne è uscita massacrata ai tempi, è stata una città che è stata a Ginova. Però lì massacrata completamente da un atteggiamento che è stato un atteggiamento per la parte degli antagonisti. Però l'impressione è che non freghi più niente a nessuno di un giudice come questa. Ma sì, ma queste sono cose ormai. Male, male. Perché bisogna di avere presente. Cioè, è interessante queste cose Se ci sono polizioti che hanno sbagliato è giusto che paghino. Però non possiamo neanche pensare che il poliziotto sia uno dei servizi sociali che quando arriva lì il malvivente gli dica cosa hai bisogno, cosa vuoi. Non eravamo in questo caso. Ti do il sussidio. Non eravamo in questo caso. Facciamo i poliziotti come li fanno negli altri paesi europei. Io sono stato in Germania, sono stato in Francia, sono stato in Inghilterra. Ma in Germania se gli immigrati girano come qua. E si permettono. Però non c'è un codice di identificazione. Perché non lo volete. Appena sgarri, lì ti tirano una manganellata sul piede e tutti zitti. Sul piede quando va bene. Una manganellata sul piede e il giorno dopo ci sono gli articoli sui giornali poverino, si è fatto male, cattivo il poliziotto. Perché non volete il codice di identificazione? Infatti da noi le regole non le rispetta nessuno. Perché? Perché anziché avere la polizia che fa il suo dovere dobbiamo avere una polizia che fa i servizi sociali e è chiaro che poi il cittadino si regola. Ma lei non vorrebbe neanche i poliziotti, li odiate voi. No, questo lo dice lei. No, lo penso io. No, non è vero. Cioè, però, in tanti casi... Non è vero però, e allora, certe cose non hanno né ma né perché né però. No, poletti. Si o no? Poletti. Ci sono tanti poliziotti che rischiano la vita e che sono morti appunto in fatti di rapine, in fatti di criminalità. Però ci sono stati anche altri poliziotti che su fatti manifestazioni in piazza poi come è stato dimostrato hanno avuto la loro grave responsabilità. Vabbè, vabbè, non ne usciamo più. Io invece volevo parlare di un'altra notizia che trovo sul sito del Corriere e che trovo interessante per tanti ragioni. Ecco, lo vedete. Ecco, si sta ricaricando il sito e quindi voi sapete che vi mostro i siti in diretta. I siti ogni tanto si ricaricano con le notizie e ogni tanto saltano. Ma io non mi perdo d'animo e vado sotto. Una notizia che riguarda Caprotti, il patron dell'Esselunga, che non è certo una persona di sinistra, che però fa una polemica relativa appunto alla sinistra. E si tratta di queste giornate in cui si lavora. Insomma, allora, la vediamo bene. La COP contro Esselunga stanno aperti anche il 25 aprile. Turrini, presidente di COP, una catena governata da un'oltre... Tanto voglio dire questo presidente di COP che si permette di dire perché questo Caprotti è ultraottantenne che però se era un grande vecchio dalla sinistra gli facevano i monumenti. Siccome è un ultraottantenne di destra gli sta sul cazzo. Però ampli anche le fasce orarie d'apertura. Allora, intanto Esselunga, come vedete sotto, cresce e mette sul piatto 2.500 nuove assunzioni. È una cosa bella che un ultraottantenne dia prospettive per il futuro e metta sul piatto 2.500 nuovi posti di lavoro che sono posti di lavoro sicuri. Poi, quando se ne va il signore che non è eterno lavoreranno comunque per una azienda solida. Allora, c'è questo problema del 25 aprile. Il 25 aprile è festa nazionale, è la festa della liberazione e c'è la polemica di COP contro Esselunga perché tiene aperto il 25 aprile. Voi come la vedete in un periodo di crisi, in un periodo magro per l'Italia che qualcuno possa lavorare costretto o meno ma se hai un lavoro, un posto di lavoro per Dio ci vai anche il 25 aprile. Come la vedete questa vicenda del 25 aprile? Bisogna tenere chiuso, bisogna aprire, bisogna stare zitti perché si è di destra e si è ultraottantenni. non è così. Cioè, io credo che... Questi sono i padroni che voi volete far fuori? Allora, poi le spiego magari delle cose su Caprotti. Mi spieghi delle cose su Caprotti? Allora, Caprotti fa benissimo quando assume e siamo tutti contenti. Da questo punto di vista non bisogna dimenticare però gli altri aspetti, le cooperative che lavoravano per essere lunga, soprattutto le cooperative dei facchini sono state come dire assunti a livello di spurtamento. Io sto parlando di gente e rivediamo l'articolo di giornale che ha la possibilità ed è costretta ma comunque ha un posto di lavoro quindi è fortunata rispetto a tanti magari disoccupati che ci stanno seguendo. Io sto parlando di gente a cui viene chiesto di lavorare il 25 aprile. Se uno non ha da mangiare e ha la possibilità di lavorare il 25 aprile e prendere la giornata doppia perché è festa non lo può fare perché la sinistra dice che non si può fare? Mi spieghi meglio. Io penso che non sia il problema di quelle giornate il 25 aprile primo maggio il 25 dicembre. Ci sono quelle 3-4 giornate all'anno che non è che crolla l'economia se rimangono chiusi i negozi o la grande distribuzione. non è quello che risolve il problema. Il 25 aprile potrebbe essere una di queste 3-4 giornate all'anno. No perché poi avete il primo maggio e cosa le ho detto il 25 aprile primo maggio giorni Natale giorni Pasqua cioè il Capodanno sono le 4-5 giornate all'anno. Cosa ne pensi di questa guerra tra Coppe e Selunga adesso al di là di quella che c'è tanto di cappello a Caprotti per quanto ha fatto per amore del cielo noi abbiamo sempre però sostenuto che questa liberalizzazione degli orari degli esercizi commerciali sia un po' troppo selvaggia nel senso che ci può stare che qualche domenica restino aperti però adesso come adesso che sono sempre aperti più che altro per una tutela nei confronti dei lavoratori mi vesto in questo momento nei panni del sindacalista tanta gente ci ha detto che fanno i turni supermercati centri commerciali che capita spesso che non abbiano neanche il giorno per poter stare con la propria famiglia questo secondo me è sbagliato ho capito ma l'alternativa no l'alternativa può essere quella è stare da strada no no l'alternativa io sono convinto che ci possano benissimo ci possa essere benissimo una migliazione di buon senso dettata dal fatto che ci sta che in alcune domeniche piuttosto che in alcune occasioni possano rimanere aperti ma in altre possano quantomeno dare anche la possibilità al lavoratore di poter godersi un po' la famiglia questo è quello che penso che pensano non penso io pensiamo noi della Lega perché abbiamo fatto anche in regione un'operazione una richiesta di referendum insieme al Veneto per far saltare quella legge voluta da Monti sulla liberalizzazione degli orari di gesti commerciali quindi siete d'accordo in questa versione e qui ce l'ha detto Monti che facendo così l'economia sarebbe risalita però Roberto te lo dico i soldi nelle tasche delle famiglie sono quelli non è che se apri sempre se ne spendono di più sono quelli che li spendi un giorno li spendi un altro giorno prima o poi quando finiscono finiscono non è che tenendo aperto sempre che improvvisamente i soldi si moltiplicano questo alla fine non è stato un risultato per una volta qualcuno le ha dato ragione mi scusi non è così mi sembra cose di assoluto buonsenso poi qui c'è la polemica 25 aprile perché è recuperativo ovviamente ci può stare che ci sia questa polemica però sinceramente i temi del lavoro sono all'ordine del giorno sempre dall'apertura del Corriere questo agguato mortale a Lucca che sembra un dramma della follia ma è un dramma è vero temeva di essere licenziato operaio uccide per strada il capo Massimo Donatini ha freddato sotto casa il caporeparto per timore di perdere il lavoro anche questo è vedete poi l'accostamento macabro a destra col primo bacio della coppia Salvini di Isoardi il bacio di Salvini lo stanno mettendo tutti da tutte le parti perché fa click però questo operaio ecco questo operaio che uccide per strada il capo non è una roba non è una roba da sottovalutare c'è talmente una tensione nell'aria che forse voi non lo capite no 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 fai tramunire no è una situazione che è drammatica esplosiva cioè la crisi economica ormai si riversa nei rapporti familiari e nei rapporti sociali l'esasperazione porta questi fatti qua siamo a questo livello e non c'è sostegno a queste persone oltretutto ecco questo è sì tenendo presente che a noi piacerebbe tanto che magari ci fosse un'attenzione anche da parte dei media non solo ma anche della politica quando si tratta quando si vedono si sentono purtroppo queste notizie perché sono tanti gli imprenditori non solo operai che si suicidano perché hanno perso il posto di lavoro imprenditori perché si vergognano perché non hanno magari i soldi sufficienti per pagare le tasse e quant'altro ecco quando magari capita che muore qualche immigrato subito tutte le pagine di giornale quando muore invece qualcuno perché si suicida perché ha perso il posto di lavoro non se lo fila nessuno tant'è vero che abbiamo visto che sono veramente tante queste persone allora l'attenzione deve essere rivolta a tutti indistintamente non solo all'immigrato che noi ci auguriamo appunto assolutamente che non ne muoiano più ci mancherebbe altro e quant'altro ma anche un sostegno un aiuto per esempio rivoluzionando perché Renzi è la sinistra ma è tre anni che governa sto paese sta benedetta Equitalia l'hanno rivoluzionata un po' oppure non hanno fatto nulla che va sempre a chiedere all'imprenditore addirittura a tartassarlo quasi essere non avere neanche un minimo di attenzione nei confronti del bisogno non so ratizziamo non me li puoi dare adesso o me li darai domani no se non me li dai ti faccio chiudere questo tipo di atteggiamento mica Renzi aveva detto che l'avrebbe cambiato con la sinistra e il governo da tre anni ma questa non è sinistra ha ragione Pomari non è sinistra questi che governano non sono di sinistra no non sono affatto la sinistra è un'altra cosa ti ho fatto l'assist allora non sono affatto di sinistra ma su questo cioè non so se grazie a Dio o grazie al cielo non lo so non si può procedere con le vecchie regole sia usiamo questo termine sia di una repressione economica sia anche diciamo di una repressione a proposito di repressione economica non si può procedere che ne pensate di questa gran bella donna che per una volta non è la Isoardi che è in vacanza qui da noi in Italia terme relax la pasqueta di Merkel nella sua ischia devo dire che promuove molto di più l'Italia la Merkel venendoci eh poi recupera tutti cioè tutto quello che ci porta in promozione turistica lo recupera stringendo i cordoni nella borsa promuove molto di più l'Italia la Merkel che è gran parte del governo che preferisce andarsene all'estero ma io penso che lei di questa donna cosa pensa? ma guardi io penso che eh sia una delle immagini proprio del del potere che non che non funziona perché eh che sia la Merkel che sia Cameron che sia qualcun altro cioè questa unione non funziona assolutamente ma non perché non ha senso appunto un'unione europea non funziona con questi termini da eh come dire da spada di Damocle siamo in una situazione emergenza non si può procedere come dire eh con con questo attacco nei confronti di centri sociali più deboli delle nazioni più deboli anche con questa autosità nei confronti della Grecia in questo periodo quindi eh come dire sembra di essere fronte a un plutone di esecuzione la Merkel promuoverebbe meglio l'Italia pensando come dire ad uscire da questo rigore non interessa nessuno se la Merkel viene in Italia viene a fare le vacanze non promuove assolutamente nulla ma se promuovesse meno rigore e ma più flessibilità ma non quella che dice Renzi quella seria quella di rivedere tutti i parametri allora sarebbe meglio per voi la Merkel cosa rappresenta? la Merkel fa gli interessi del popolo tedesco sono i nostri politici che non fanno gli interessi dei cittadini italiani questo è il punto vero poi sulla questione che venga a fare le vacanze da noi con tutto quello che ci dice per amor di Dio qualcuno potrebbe dire potrebbe evitare però testimonia il fatto che il nostro paese è comunque un paese che potrebbe avere un PIL incredibile solo se sapesse sviluppare una parola turismo che culturalmente da cultura turismo noi dedichiamo le minori risorse destra sinistra cento sopra sotto in qualsiasi tipo di ente dal comune alla provincia alla regione invece il turismo valorizzato abbiamo i posti migliori i siti migliori da poter visitare sapete quanto business potremmo davvero fare e questa deve essere la vera occasione la vera sfida non pensare solo com'era il nostro paese prima ma secondo te arriveranno tutte queste persone promesse per Expo? ma io sono convinto perché io vedo le nostre strade già intasate di loro no? mille difficoltà mille ma arriveranno arriveranno poi alla fine Expo come sempre cioè poi alla fine è sempre così se fossero state Expo l'avessero fatto a Roma sarebbero tutti qua a dire che bello fantastico nonostante tutto perché si fa Milano ovviamente devono piovere solamente critiche perché i Lombardi in questo sono i più autodesionisti al mondo da questo senso sotto questo profilo io sono invece convinto che arriveranno tanti turisti e che alla fine Expo sarà veramente una grande opportunità poi dopo alla fine a tutti dire certo le polemiche hanno sempre accompagnato i grandi eventi nel nostro paese basta pensare alle Olimpiadi di Torino ai mondiali di calcio d'Italia 90 tante altre cose però alla lunga poi questo ne trae un beneficio perché immaginate anche solo 7 milioni di visitatori o anche 5 fossero che in media spendono 700 euro a testa quanto fa? e beh insomma sono qua cioè arriverà tutto a stare ma lei il menagramo scusi c'è una continuità perché fa il menagramo la continuità è quello l'investimento che bisogna fare dopo in quel settore approfittando prima parlavo dell'agroalimentare sapete quanti giovani vorrebbero avere un pezzettino di terra per coltivare dei prodotti rivenderli c'è bisogno di Expo questo no però Expo parla di alimentazione può essere il bolano perché la politica capisca che quella può essere una grande occasione per il futuro di questo paese quanti terreni incolti ha lo Stato il demagno una marea datele ai giovani fateli coltivare perché ci sono tantissimi ragazzi che sono interessati a questo ma non capisco cosa come dire i benefici di Expo con questa cosa vabbè ho capito lei cioè si deve pagare i soldi ho capito lei non vuole sapermi strutture ricettive dico a livello di ristoranti commercianti comunque dai tassisti a quant'altro quante categorie dall'arrivo di turisti possono trarre un vantaggio ma non lo puoi fare scusa sono soldi che arrivano dall'estero a noi ma voi allora poi a proposito di turismo vi faccio vedere da libero quell'inchiesta ne parlerò anche domani sera forte e chiaro che ci fa vedere dove mettono i profughi nei migliori alberghi no perché giustamente accoglienza 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 predicata da voi della sinistra e poi lei non lo so perché non sono mai venuto a casa sua però magari lei vive in una catapecchia le auguro di no per fortuna per fortuna no però molti suoi compagni vivono in una catapecchia perché sono costretti a vivere in una catapecchia e non li mettono in albergo io vorrei capire poi da lei vedendo queste immagini da libero com'è possibile che lei spieghi ai compagni intanto c'è un bel vaffa ce lo sta facendo vedere la regia fatemi vedere il vaffa che ci sta e così mettiamo tutto assieme il vaffa di Matteo Salvini al premier Renzi perché dopo che Renzi ha fatto questa questa conferenza stampa sulle tasse l'abbiamo spiegato all'inizio Renzi ha detto non si toccano le tasse sta tutto fermo state sereni va giù il debito pubblico e tutto poi qualcuno gli ha fatto notare molto sommessamente o anche meno molto sommessamente gli ha fatto notare con dei ragionamenti gli ha fatto notare che in buona sostanza non è possibile questa roba qua perché dove si recuperano i soldi si recuperano dai comuni allora Fassino ha detto a Renzi guarda che io dovrò aumentare le tasse stricotolare strangolare i miei dovete portarmi libero fate il giro i miei fai vedere il vaffa qui che ci sta perfetto Fassino ha detto che deve stritolare i suoi concittadini con le tasse e Renzi gli ha detto la cosa che tutti avrebbero voluto dirgli a Coso a Renzi gli ha detto vaffa allora no libero di domenica scorsa io non so Pomari non legge abitualmente libero in forca l'occhiale la regia riesce ad inquadrarmelo con la telecamera dall'alto mi ha dato io la telecamera e gli alberghi con piscina dei clandestini allora cosa devo fare lo devo girare così perché si veda dritto allora avete un attimo di disfunzioni sulla camera ragazzi allora io l'avete girata dall'altra parte ragazzi non fate come come Renzi che gira sotto sopra la realtà giratemi la telecamera dall'altra parte in modo che io lo possa mettere dritto cioè io in questo momento ce l'ho storto e diventa dritto dipende da che parte si guarda e anche e anche la la parabola no di questo è dritto è storto ma io io lo giro io faccio come Renzi lo giro da sopra sotto a sotto le robe ah ce l'avete fatta perfetto avevamo la telecamera che ruotava no? allora gli alberghi con piscina dei clandestini ricordo che siamo in diretta è la nostra prima sera di diretta e di fatto io ringrazio Pomari e Romeo che vengono a questa nostra prima diretta serale e dico a tutti quelli che ci stanno seguendo che so di essere lì che noi ci saremo tutte le sere romperemo le balle tutte le sere ma Libero che lei non ha letto come mai non ha letto Libero non importa legge? che stampa legge quello lì dei comunisti che vengono a suonarmi il campanello le otto alcuni sì alcuni anche delle 8 e 0 0 giornale comunista 8 e 12 giornale dei testimoni di Geova 8 e 20 8 e 20 altri altri lazzaroni a rompere le balle cazzo la domenica uno vorrebbe dormire ma arriva il giornale comunista io con tutto il rispetto vi voglio ma io sono contrario a porta a porta appunto perché ho capito ma questo giornale comunista che mi rompe le balle la domenica come i testimoni di Geova ma state bene tutti a casa vostra la domenica mattina poi si mette il vicino sotto col trapano e ho fatto bingo però al di là di quello quindi legge il giornale comunista ma io non vado porta a porta la domenica perché sono contrario no 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 la mandano perché si spaventano mandano questi giovani lei spaventa spaventa i vicini di casa no spaventala invece mandano questi giovani tutti lì vado avanti convinti qualcuno anche un po' vado avanti appunto tutti questi giovani su questo vado avanti no quello che voleva dire ah ecco lei non perché ho perso il filo per forza anche lei ha parlato quello che sull'expo mi ha detto un grande tema per essere contrario stava parlando di libero ha visto che lei mi aiuta è un personaggio allora stavo guardi che le fa più male libero del giornale comunista non c'è dubbio più male sì o è un battutista o no ecco gli alberghi con piscina dei clandestini che è una roba che la lega ha sempre detto hotel agriturismi edifici storici ecco dove ospitiamo gli sbarcati andiamo all'interno a vedere no perché poi sta roba qua bisogna anche vederla e Matteo Pandini collega sul libero le ha messi tutti assieme qua no per esempio per esempio allora questo qua è l'ostello Canal Bianco di Arquapolesine Rovigo cioè guardate che posto meraviglioso il numero due è l'agriturismo Bonciani di Vicchio di Mugello Firenze cioè non è che li stiamo mettendo in posti l'hotel Baia degli Uscocchi al villaggio del pescatore a Duino Trieste questo qua invece è l'hotel Europa Marilana Pistoia cinque questo qua è l'hotel Royal Saint's Children di Cattolica che sarà fuori stagione ma intanto è sempre cattolica la villa Nazareth di Trieste poi abbiamo il Venetian o come cavolo si dice che qua c'è Salvini che ci fa una foto hostel di Monseli c'è Padova il centro Morosini allora no adesso me lo deve far dire adesso mi deve far mostrare dove mettete voi i clandestini perché quando lei parla con i compagni e gli dice ai compagni cari compagni facciamo la lotta i compagni le dicono ma vai avanti tu a fare la lotta perché mettete i clandestini negli hotelli io sto in una catapecchia allora me la fa fare tutto e l'otto è il centro grazie dell'autorizzazione il centro di soggiorno Morosini a Lido di Venezia il nove c'è l'hotel Miriam di Lignano poi li mettiamo anche qua guardate a questo posto meraviglioso il collegio Cellana di Caprino Bergamasco pensate i profughi dovrebbero arrivare la Lega sta raccogliendo le firme qui hanno già firmato in 8 mila domani sera avrò il sindaco di Caprino Bergamasco questa struttura storica favolosa e gli mettono qui 100 per poi arrivare a 1000 immigrati capite che gli girano le balle poi andiamo avanti all'11 c'è l'hotel Ritz di San Genesio dei Uniti che è casa di Ciocca vedi dove abita il vostro consigliere Ciocca ecco si sono ricordati anche di San Genesio al 12 c'è l'agriturismo Molte Susu di Tonara Tonara Nuoro qua si beve il Mirto Buono il centro turistico Gardesano guardate qui poi c'è l'hotel Domus Marie di Aqualagna il parco io continuo il parco dei colli di Verde sta aspettando che sta aspettando cosa che finisca sa che io posso andare avanti i mesi con questo elenco allora Romeo quanto può durare questo elenco di hotel dove mettiamo no sto facendo una domanda Romeo quanto può durare questo elenco di hotel dove mettiamo i profughi non basta la fine della trasmissione e allora fammi andare avanti allora il 16 cos'è il 16 questo è l'hotel Sintini di Cesenatico però il 17 è l'hotel Ambra di San Zenone all'Ambro sempre a Ciocca il 18 l'Antares di Piancavallo Pordenone il 19 l'hotel Aurora di San Zenone di Montagna Verona il 20 l'hotel Meri di San Casciano Firenze il 21 l'hotel Città di Parenzo che ha lo stesso cognome di David che saluto poi il 22 l'ex albergo Mirafioni di Venzone il 23 la baita del Faggio sulle Madonie il 24 la vecchia si fa per dire residenza per anziani Gleno di Bergamo invece di metterci i nostri vecchi finiscono i giovani il 25 l'hotel Adele di Vicenza e la villa Grina di Torre del Greco dove e lei guardi adesso ci sono altre 12 pagine le do così fastidio che volevo dire che c'è la villa con piscina la cosa con piscina allora capisce che la gente che è arrivata dal nord al sud che erano nostri concittadini con come si chiamano compaesani dello stesso paese li abbiamo messi nelle catapecchie trattandoli di merda e non dandogli niente e qui ti prego Ferrara in quadra vanno anche nelle ville con piscina perché non è l'unico con piscina adesso me lo può dire quello che pensa dai allora due cose la prima è che non sono solo in quei posti ci sono anche i famosi CIE adesso sono di meno che non sono dei grandi alberghi allora secondo perché se si utilizzano queste strutture se ne dovrebbero utilizzare delle altre probabilmente i comuni non li hanno allora facciamo le strutture mi scusi posso parlare che non siano quelli che non siano io utilizzo ma siano dignitose dove andare ma guardi il problema è questo qua viene fuori il comunista che c'è in lei non fa parlare mi scusi quanti italiani sono sotto un ponte tanti tanti bella ma anche tanti ha una risposta intelligente ma se per quello anche tanti migrati c'è una differenza però che se sei italiano lo Stato non paga la camera dell'albergo con piscina alla persona italiana che è in mezzo alla strada dorme sulla macchina come abbiamo visto tanti casi se invece arriva dall'Africa con questo status di profugo di cui tanto voi diciamo così vi riempite la bocca alla fine lo Stato dà tot soldi a queste strutture che probabilmente naturalmente le traggono un guadagno questa è la verità questa è la verità se per quello io dico anche una cosa sono profughi poi arrivano tra l'altro poi si lamentano perché se all'hotel gli dai da mangiare quello tu hai con piscina un piatto di spaghetti no? alla fine si arrabbiano perché loro dico no noi vogliamo il nostro cibo non mangiamo la pasta asciutta la prendono e la buttano via ci sono numerosi casi allora ma chi viene da un paese in guerra perché secondo te dico a te che mi sembra che se hai una persona un po' di esperienza ce l'avrai anche dico ma secondo te i capelli bianchi non fanno sempre mai buttano via buttano via da mangiare cioè un profugo che non ha mai mangiato che scappa dalla guerra quello che ti danno a mangiare lo mangi perché buttano via il cibo perché non sono profughi perché spesso sono di furbetti che si nascondono dietro intanto voi li avete chiamati voi profughi prima si chiamavano ma dove? prima si chiamavano clandestini ma trovi degli austriaci poi li avete chiamati migranti col vostro bontone poi da migranti tutti profughi scusami che non è vero che viene al cibo non sarà proprio che viene al cibo grida vendetta queste foto qui gridano vendetta non è un profugo non è un profugo allora trovate delle strutture che non siano queste chi è che sta governando? chi è che sta governando? chi è che sta governando? che diglielo a Renzi diglielo e che siano adeguate ma questa non è inadeguata questa è una cosa che grida vergogna da quanto è adeguata nel senso che molti italiani sotto i ponti non hanno secondo lei non vengono prima gli italiani datemi queste ecco bravo secondo me viene prima chi ha bisogno senta secondo lei se ha bisogno un italiano che è sempre stato qui mamma papà nonna zia bisnonna è sempre qui e arriva uno appena sbarcato chi viene prima? lei me lo deve dire ma fuori dai denti ma non importa ma non guardo chi viene prima cioè il pensionato l'immigrato hanno bisogno della stessa assistenza cioè è la persona che bisogna guardare non il luogo di provenienza no è la persona con i suoi bisogni non il luogo di provenienza mammi scusi lei è padre di famiglia sì non so niente di lei è padre di famiglia certo sì perfetto se i suoi figli hanno quante figli ha? due figli o figlie? due figli due figli allora lei ha due figli quindi è papà di due ragazzi allora lei giustamente perché è un lavoratore fa di tutto per portare da mangiare a questi due figli e qui non ci piove allora in buona sostanza lei mi deve dire se i suoi figli non hanno da mangiare gli dà da mangiare ai figli del vicino ci sta pensando adesso no ma che ragione non è il ragionamento come no io le ho fatto una domanda in una famiglia c'è un rapporto affettivo io le ho fatto una domanda i suoi figli hanno fame chiaro? dà da mangiare prima ai suoi figli o ai figli del vicino? ma i figli ai miei figli sicuramente e allora basta allora è un leghista no no ma in questi casi si guarda al bisogno della persona cioè non è privilegiato uno contro l'altro comunque perché si utilizzano queste strutture? possibile che vi dovete vergognare a dire che vengono prima i nostri cittadini degli altri cioè tra una persona che sta morendo di fame e che è nel nostro paese e uno che arriva da un altro paese che è nelle stesse condizioni ma se non riesco ad aiutarli tutti e due perché se li potesse aiutare tutti e due il problema non si porrebbe se non riesco ad aiutarli tutti e due chi aiuto prima? il nostro concittadino dai ma perché questo deve essere considerato razzista? secondo noi è considerare razzista il contrario quello che fate voi che considerate prima quello che viene da fuori rispetto al vostro concittadino questa è la verità dai prendetevi ogni tanto le responsabilità non è vero perché da parte nostra non c'è mai stata una guerra tra poveri voi la fate nel momento in cui nel momento in cui ci abbiamo 4 milioni di disoccupati nel nostro paese e ci sono un sacco di persone senza tetto nostri concittadini che fanno la coda la mattina per andare a prendere il pezzo di pane a Milano lo sai perché li vedi anche tu certo allora come facciamo visto che c'è la crisi economica e non riusciamo ad aiutare loro come pensate di poter aiutare tutto il continente africano dai ma uscite un po' da quest'ideologia che è veramente folle porte aperte per tutti ma è folle cominciamo a aiutare prima la nostra gente poi quello che avanza lo useremo per aiutare gli altri guarda che su questo io non voglio essere di parte ma lo so è molto senso tradizione anche cristiana cattolica e su questo cosa vuol dire ma da buon cristiano da buon cristiano che sono se devo fare una scelta dico se posso aiutarli tutti e due gli aiuto tutti e due se non ho i soldi per aiutarli tutti e due prima aiuto i miei concittadini poi quello che avanza lo userò per gli altri non è un ragionamento da buon cristiano non lo so facciamo però allora non è contro di lei la trasmissione no è perché no io voglio entrare in una testa comunista scusi lei è uno dei pochi comunisti rimasti non sarà mica comunista Renzi e questo governo che si è fatto eleggere non votare perché non l'hanno votato dicendo di essere di sinistra e poi più di destra di quelli di destra quindi sono rimasti pochi comunisti lei lo è coerentemente voglio entrare nella sua testa faccio qualcosa di male no bravo oh allora facciamo una roba allora io prendo una di queste circolari del ministero dell'interno che il ministero manda alle prefetture grazie Massimo che manda alle prefetture no per l'accoglienza di questi profughi qua allora andiamo al capitolo erogazione dei pasti sono poi ne parlerò anche domani sera forte e chiaro no erogazione dei pasti il servizio dovrà essere svolto con prima colazione pranzo e cena eh nella scelta degli alimenti sarà posta la massima cura nel proporre menù non in contrasto con i principi e le abitudini alimentari degli ospiti mi sembra una questione di rispetto faccio un esempio che c'entra Salvini che si bacia con la cosa no faccio un esempio non è questo caso anche nella cultura ebraica con tutto rispetto c'è un modo di nutrirsi un modo di cucinare sì ma però mi faccia finire mi faccia finire menù non in contrasto quindi non è la lega qui a parlare ma solo menù non in contrasto con i principi e le abitudini alimentari degli ospiti in particolare dovranno essere rispettati tutti i vincoli costituiti da regoli alimentari dettate dalle diverse scelte religiose in caso di particolari prescrizioni mediche di allergie e questo è ovvio dovranno essere fornite diete adeguate uno ha l'allergia e deve i generi elementari dovranno essere di prima qualità e garantiti a tutti gli effetti di legge per quanto riguarda la genuità la stato di conservazione e l'igiene allora cioè intanto voglio dire gli dobbiamo dare generi e gli diamo generi alimentari di prima qualità e garantiti tutti gli effetti di legge mentre la gente fruga sui cassonetti però al di là di questo è nei cassonetti allora se noi dobbiamo rispettare il dettame religioso ma scusi se uno ha fame mangia non rompe i coglioni penso io perché se lei porta allora se lei decide di dare un po' meno da mangiare ai suoi figli per portare qualcosa al vicino e lei porta una cosa al vicino che ha fame per sfamarlo no? e sto vicino le tira dalla finestra quello che lei ha portato gli girano le balle no? io non so cosa facciano però scusi ci troviamo di fronte a delle persone che hanno una cultura religiosa come tante altre religioni penso che sia una forma di rispetto non dargli la carne di maiale alla vecchia che ha lavorato 60 anni 50 anni e che ha un'allergia alimentare non andiamo a casa a portarle il pasto tutto raffinato con l'allergia alimentare scusa mi pare che dicano di dargli ostri che champagne no ma se tu fossi faccio questa domanda affamato e scappassi dal tuo paese e finisci in un paese non so della radia finisci in Arabia Saudita li taglia la testa dopo 5 minuti perché ha anche i capelli lunghi che va bene a tenerla come trofeo se hai fame e ti danno una delle loro pietanze cosa fai? tu no dici no gliela ridai dici voglio un piatto di spaghetti o piuttosto che voglio risotto alla milanese ma dai ma per favore ma è assurdo non mangia la carne di maiale sai qual è queste circolari qui sono figlie di un paese che odia se stesso cioè che poi riguarda tutto l'Occidente che odia se stesso noi ormai siamo lì che adoriamo tutto quello che viene fuori dall'Occidente e odiamo tutto quello che da partire dai nostri valori dalle nostre tradizioni questo è il problema per cui ci stiamo suicidando tant'è vero che fra poco questi qua non c'è neanche bisogno di fare gli attentati qua da noi ci hanno già conquistato con gente che la pensa come quello che ha scritto quella circolare lì hanno già vinto loro la battaglia c'è bisogno di fare gli attentati di fare conquisti ci hanno già conquistato siamo già nelle loro mani quando un ministro dell'interno scrive una roba del genere vuol dire che sei già reso che ci siamo già resi a quella gente lì non dobbiamo preoccuparci dei terroristi non facciamo neanche i controlli perché siamo già comandano già loro qua facciamogli dire il suo pensiero perché io mi scuso che lo schielo però a me non cambia assolutamente niente perché se voglio mangiare la carne di maiale la mangio ho capito ma lei ce n'ha da mettere in frigo pensi alla gente che si vede scusi guardi secondo me esce da sta trasmissione che va da Salvini a chiedere alla tessera ma non si preoccupi che gliela farò meno non c'è problema guardi no ma gliela faccio poi io in macchina gliela farò meno gliela farò meno nel senso che io sto notando un cambiamento in lei da quando le buttiamo qui le prove del fatto che c'è qualcosa che non va lei è riflessivo bisogna essere riflessivo su queste cose bisogna essere riflessivi non è che bisogna sempre agire di impito mi è entrato comunista a me esce da destra no sono sempre la mia idea però cerco appunto un'interlocuzione dico semplicemente mi sembrano delle cose di rispetto non è che dice diamogli il filetto o diamogli no il filetto no perché non mangiano la carne no non mangiano carne di maiale ah ok il filetto quell'altro senta ma poi guardi gente di vent'anni cioè lei ha fatto il militare ho fatto l'obiettore coscienza si è perso tutto dalla vita porco può darsi però militare ci pulivamo le cose no qua invece servizio di lavanderia servizio di pulizia giornaliera e periodica dei locali degli arredi raccolta e smazzimento rifiuti vuol dire che se lei mi presta la sua casa di montagna non ce l'ho non ce l'ha allora se lei avesse una casa di montagna e me la prestasse va meglio così allora cosa faccio io le dico grazie vado a casa sua in montagna dormo pulisco prima perché avrà lasciato un casino pulisco prima metto a posto sto lì poi la ripulisco butto la spazzatura e vengo via certo e invece qua gli diamo la serva che pulisce ma l'ha letta sta circolare ma io credo che come dire bisogna andare con i piedi pombo in queste cose qua certo c'è un problema ecco questo io trovo che si sta facendo anche molte organizzazioni volontariato stanno facendo che non deve essere come dire tutto dato o tutto dato per acquisito anche nei confronti di questa gente ma bisogna aiutarli a entrare in rapporto con noi è un problema fatto molto difficile diciamo che tra le varie associazioni di volontariato c'è anche qualche cooperativa che più che fare in modo che entri in integrazione con noi e ci guadagna un sacco di soldi dall'arrivo di questa gente qua certo sfruttamento che addirittura stando a qualche capo a qualche intercettazione che è messa sulla stampa frutta addirittura questo traffico di clandestine addirittura più della droga quindi questo è perché poi alla fine è un grande business non prendiamoci per il sedere con la parola accoglienza è solo un gran business questa operazione che arricchisce alcune persone e questo è evidente libero non glielo regalo perché ci tengo però questa circolare che è del ministro Alfano io gliela regalo è una generica una delle tante con tutti i benefici che hanno questi se li studia e mi dice se è giustizia perché lei sul giornale comunista mette dentro queste robe qua i tanti che hanno dato la vita anche per quell'ideale là eccetera dicono ma porco cane dove sono finito capisce il problema è sempre a monte non che mi suona a vendere il secolo d'Italia alle 10 di mattina guardi se lo può scordare no quello me lo auguro il problema è sempre a monte cioè abbiamo molti immigrati che poi non sono più di tanti altri paesi europei proprio perché ci sono delle situazioni devastanti o di guerra o di povertà o di miseria in altre parti del mondo che abbiamo contribuito purtroppo ad alimentare mi date regia la cartina d'Italia storta per favore la cartina geografica essendo colpa nostra adesso possono venire qua a fare razzia di tutto e di tutti questo è il senso di colpa della sinistra della mentalità della cultura di sinistra perché non c'entra niente a Renzi proprio la cultura di sinistra che ha fatto sì che questo continente quello europeo fosse solo pieno di sensi di colpa e che ho di se stesso via tutti i nostri valori avanti gli altri porti aperte agli altri poi quando saremo finiti e scomparsi come civiltà vi ringrazieremo a proposito di Renzi sta montando una polemica incredibile ma non tra Renzi e Salvini che gli ha detto vada e via no cosa gli ha detto Salvini ma sì ma gli avrà detto bacia Pairato va bene va bene ha fatto quello che uno si aspetta allora non è che adesso Renzi lo sta bastonando Salvini o lo sta bastonando Berlusconi lo sta bastonando lo stanno bastonando i sindaci tant'è vero che Renzi no che non aumenta le tasse ma provoca l'ira dei sindaci attacca Fassino e Pisapia perché Fassino e Pisapia lasciamo stare Pisapia che è un caso umano ma Fassino che è un uomo che è da tanti anni in politica no caso umano nel senso che è umano Pisapia no sì allora Fassino sostanzialmente che ne capisce di politica di tasse e tutto è arrabbiato Pisapia anche molti altri anche e qua c'è si stanno mangiando tra loro di sinistra ma che sta succedendo secondo te ma la cosa clamorosa è che Renzi prima ha fatto il presidente della provincia e poi subito la prima cosa che ha fatto è voler eliminare le province poi ha fatto il sindaco adesso va contro i sindaci mi sembra il classico personaggio politico che sputa nel piatto in cui ha mangiato fino a ieri e questo a mio punto di vista tutto per Fassibello adesso a fare presente il consiglio e questo quelli che sputano il piatto dove hanno mangiato non hanno mai fatto una bella fine viene fuori un po' di sinistra da qua no? che si ribella a Renzi quelli che si ribellano a Renzi sinistra ma anche sinistra da marciapiede nel senso quelli che tutti i giorni sono in prima linea questi sindaci pomari rivediamo l'articolo ma dovrebbero avere molto molto più coraggio cioè alle volte solamente come dire un protestare all'interno per avere un po' di spazio e avere qualcosa io non credo se Fassino perde la faccia se Fassino e Pisa Pia cioè l'ha lasciata lì ma Fassino e i sindaci aumentano le tasse perdono ridatemi l'articolo regia ho fatto qualche intruglio io col computer ditemi se ho fatto qualche intruglio col computer Roberto hai fatto un pasticcio no non avevo fatto nessun intruglio perché si copriva un po' la faccia di Fassino ma lo sappiamo com'è fatto Fassino quello lì magro e c'è quello grasso quello ingrassato e quello dopo e Renzi che da quando governa è diventato un otre un bue perché è quelli sapete no il potere insomma tante cene di lavoro ecco dovrebbero avere più coraggio secondo lei sì certamente certamente perché come dire non riescono a venire fuori da questa situazione poi ovviamente le azioni e la politica quei livelli sono molto difficili però non mi pare che abbiano molto coraggio allora io volevo sapere perché mancano pochi minuti alla conclusione vi ringrazio anche che siete venuti al battesimo di questa serata poi andremo in replica più volte grazie per l'invito no ma mi fa piacere anche perché abbiamo ragionato io per la prima volta forse sono riuscito a convertire qualcuno col tuo aiuto hai visto Pomari adesso io so che ti ha chiesto adesso col viaggio di ritorno verso Monza non ci sperare il compagno qui viaggia a differenza di altri compagni che vengono perché gli ha allora lui è un compagno vero nel senso che io perché lo invito spesso perché a differenza degli altri della sinistra che vivono in stracentro hanno quello che gli porta a cagare e a pisciare il cane hanno il gatto che mangia sul vassoio d'argento e hanno le Mercedes no? e dopo dicono che sono compagni lui è una persona che viene col treno e che noi andiamo a recuperare qui alla stazione vicino e no ma vadete le robe perché uno fa il compagno poi per finta no? e allora cosa mi mostrate qui? ah lo volevate ospitare coi profughi che avete messo no se fosse stato un profugo l'avrebbero accompagnato qua a spese dello Stato col taxi ecco no però il Pomari ha chiesto un passaggio a Romeo no? quindi durante il tragitto in macchina secondo me avviene la conversione eh secondo me adesso un fatto privato o sa tutta la Lombardia è un fatto privato cos'era? che lei è un compagno? no che torno con Romeo è un problema perché teme ripercussioni da parte no assolutamente se vuole può tornare a piedi no oppure utilizzando i treni allora mi dica una cosa buona che farà domani lei domani in ufficio con i lavoratori e affronterò tutte le tematiche dei lavoratori di oltre il lavoro un ruo specifico di quello che cioè giocate a tennis cosa sono le tematiche oltre il lavoro? ma di quello che magari può ricevere provvedimento disciplinare non lo meritava ma senta faccia la fotocopia a vista circolare e la mostri a tutti i compagni e faccia una sezione rossa della Lega dentro no però discutete anche di questa roba no assolutamente discutetene porti libero anche no libero no mai questa sì magari che l'ha firmata Alfano amico vostro lei cosa farà di buono domani? domani di buono direi più che di buono di importante la partecipazione al presidio organizzato dai sindacati fuori dalla sede di Ale a Milano perché c'è questo rischio piano esuberi ci sono molte persone che rischiano chiaramente posto di lavoro e quindi come regione abbiamo chiesto come consiglio di trovare in qualche modo insomma una soluzione per queste persone e domani sarò lì al presidio che inizia alle nove io arriverò intorno alle dieci e mezza però sarò presente questo è un tema importante vi siete ridotti un po' i privilegi il consiglio regionale direi proprio di sì direi proprio di sì come tagli i costi della politica il consiglio regionale Lombardo ha fatto tanto non c'è più il vitalizio non ci sono più i trattamenti di fine mandato c'è stato tagliato lo stipendio del 40% non ci sono più finanziamenti ai gruppi è stato ridotto il fondo per il personale diciamo che effettivamente come ha messo in mostra la Corte dei Conti spendiamo veramente poco il giusto voi sindacalisti non vi tagliate mai niente ma non è vero guardi io sono ben contento quando anche i dirigenti nazionali hanno messo hanno pubblicato sul sito come quello della FIOM quanto pigliano di stipendio non sono cifre scandalose sono cifre secondo il contratto nazionale qualcuno le piglia anche per non lavorare come in politica come dappertutto qualcuno le piglierà anche per non lavorare no perché del resto è bella quest'anima critica che avete voi della FIOM perché criticate anche voi stessi alla fine la FIOM mi sembra corretto questo fatto mi sembra corretto gli ho fatto un complimento adesso non è che è tutto presa per il culo è anche qualche complimento Pierluigi Clerici raggiungici qua dietro perché domani le trasmissioni guarda che quando verrà ospite tuo la prossima volta non so se puoi scrivere FIOM CGL è quello che stavo pensando no per carità perché hai fatto un'operazione fantastica questa sera mi hai convertito l'ultimo comunista che era rimasto in Italia no non sono convertito non sono convertito non ne abbiamo più per le nostre trasmissioni non sono convertito affatto e questa adesso è una cosa che forza Poletti non sono convertito le nostre trasmissioni proseguono fino alla mezzanotte con altre trasmissioni interessanti però domani mattina alle 8 seguite Pierluigi Clerici con la sua trasmissione che è niente zucchero dalle 8 fino alle 12 ci teremo compagnia con i mercati con insomma collegamenti in diretta con le piazze lombarde ti è cambiata la telecamera nel frattempo ecco con le piazze lombarde e domani mattina mi terrà compagnia all'inizio l'onorevole Fatuzza e parleremo di pensioni però ti colleghi anche con un mercato in Lombardia che è quale? che è quello di Saronno quello di Saronno a Saronno e fai 12 metri comunque stamattina Re Legnano con Giorgia Messinese e stasera domani a Saronno quindi se qualcuno ci vuole raggiungere là ringrazio Romeo grazie a voi alla prossima buon lavoro grazie è una nuova avventura vedremo come andrà a finire sicuramente bene come tutto quello che tocco io diventa oro e non tocco lei che sennò mi diventa oro e poi no sto scherzando grazie anche per lo spirito con cui ci mancherebbe si porti via la circolare sicuramente è l'unica cosa che si legge da sta parte la guardava storta si è preso anche lei con le telecamere io ringrazio per Luigi Clerici tutti i nostri tecnici che non sto a citarli oggi hanno fatto un ottimo lavoro perché era il battesimo per un canale televisivo siamo diventati tutti matti ma è andata direi abbastanza bene direi e buonanotte direi e buonanotte c'è il picchio dietro che dice le sue robe giustamente va bene vi lascio buonanotte a tutti grazie buonanotte grazie a tutti grazie a tutti